Come sapere se una persona ha immobili intestati? Ciao, un saluto da Andrea Ruocco. Per sapere se una persona ha intestato uno o più immobili bisogna fare una misura ipotecaria. La puoi chiedere a chiunque abbia un accesso ad un servizio telematico. Solitamente il notaio e l'agente immobiliare sono le persone più adatte. Ma se non vuoi scomodare nessuno puoi recarti personalmente nella conservatoria dei registri immobiliari. Sarebbe una sorta di fortino dove vengono conservati gelosamente tutti i passaggi di proprietà. Chiunque può sapere se quella persona è proprietario oppure no di quell'immobile. Ogni città ha la sua conservatoria. Quindi se vuoi andare lì personalmente ti basta il nominativo, il luogo e data di nascita e saprai di cosa o non è proprietario quella persona. Ovviamente ha un costo e si agire intorno ai 20 euro a controllo. Se hai altre domande su questo argomento scrivimi oppure e vieni a trovare un'agenzia. Ciao!